Siamo con il commissario Sassarini, innanzitutto complicati, è arrivata la prima vittoria, partita difficile, si è creato tanto, poi è arrivato questo gol un po' inaspettato, però i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Sì, la squadra mi è piaciuta, abbiamo fatto bene, abbiamo creato tanto, potevamo e dovevamo chiudere la prima perché si sa che le partite sono difficili e abbiamo avuto alla fine il 2-1 meritato. Una buona prestazione rispetto alle altre partite, tante occasioni da gol davanti, molto probabilmente alcune non si è riuscite a concluderle al meglio, cosa è cambiato rispetto alle altre gare? Ma che la squadra inizia a conoscersi sempre di più, che quindi inizia a trovare le trame su cui lavoriamo e si stanno iniziando a vedere, ma non è facile questa squadra qua. Al completo lavora solo da tre settimane e quindi non è certamente semplice, io credo che la squadra abbia fatto bene in possesso, deve sicuramente migliorare il non possesso perché ci sono dei principi su cui lavoriamo, dobbiamo metterli secondo me in pratica con più coraggio. Trasferta difficilissima la prossima, si va ad Alessandria contro una delle squadre più forti del girone, con che mentalità si va? Ma io credo sempre che la mentalità deve essere la stessa, perché se hai una mentalità di tutelarti e perdente, alla fine perdi, quindi a noi piace giocare, provare a imporre il nostro gioco in ogni campo e poi sarà sempre il campo a determinare il risultato e gli episodi, però l'idea è quella di andare a imporre. Una lica in particolare per questa vittoria? Il primo pensiero è stato direttamente al presidente e al direttore, perché credo se lo meritino per quelle cose che fanno, per quello che hanno fatto per noi, quindi il primo pensiero appena affischiato è stato direttamente al direttore precedente, presidente e direttore. Grazie a te. Grazie a te.